ok salve buonasera a tutti bene listini europei oggi abbiamo assistito a una chiusura poco mossa dove il dax chiude a più 0,02 per cento libex almeno 0,22 per cento il cac di parigi a meno 0,07 per cento il fuzzi londra più 0,60 per cento il fuzzi miba più 0,31 per cento per quanto riguarda invece le news macroeconomiche oggi c'è importante sottolineare un intervento da parte del discorso numero uno dell'era tower mario draghi alla camera dei rappresentanti olandesi secondo le parole del chairman di brussel della bce le nostre misure si stanno rilevando efficaci dati in arrivo confermano che la ripresa civica della zona euro si sterrobustendo e che i rischi a ribasso sono ulteriormente diminuiti finora poi ha continuato draghi gli effetti negativi potenziali sono stati limitati in qualunque caso la bce li sta monitorando con attenzione al momento mantenere un sostanziale grado di misure accomodanti è ancora necessario e inoltre abbiamo bisogno di misure per poter affrontare l'eredità della crisi alzare la crescita potenziale e migliorare il sistema economico per poter aumentare la resilienza verso gli shock futuri bene vediamo domani che cosa ci offre invece il calendario macroeconomico con il subito dopo stanotte a mezzanotte subito dopo alle ore 23.45 c'è appunto il meeting da parte della banca centrale della nuova zelanda e dopo c'è il discorso del governatore della banca centrale weller poi alle 10 e 30 ci sono due indicazioni macroeconomiche sempre dalla gran bretagna con la produzione industriale e manufatturiera di marzo il saldo della bilancia commerciale e poi alle ore 13 attenzione facciamo molta attenzione perché c'è il rapporto della boe sull'inflazione e allo stesso orario abbiamo l'annuncio dei tassi di interesse alle 14 e 30 abbiamo l'indice dei prezzi alla produzione e le richieste di sussidi di soccopazione invece dagli stati uniti beh andiamo a vedere subito che cosa è successo oggi per quanto riguarda le borse i listini le principali i principali coppie partendo appunto dall'euro dollaro bene l'euro dollaro resta ancora in bieti il three drivers in ottica giornaliera dove praticamente che si è formato a 109 e 33 però fondamentalmente nonostante abbiamo un pattern armonico che ci evidenzia un movimento short la partenza un all'area di proprio dove si trova anche un livello a 1 0 9 83 però sinceramente al momento non non abbiamo grosse indicazioni dopo appunto le le due ultime candele ribassiste però vedete oggi già nella candela odierna già ha evidenziato una fase di livellamento di forza da parte dei venditori vabbè comunque staremo a vedere domani che cosa succede invece per quanto riguarda il dollaro yen allora il dollaro yen invece un attimo che allora il dollaro yen abbiamo una bearish cyber sul giornaliero però al momento non ancora ci non c'è nessun tipo di movimentazione rialzista ribassista pardon e che dire in questo momento quindi al momento resta ancora una forza da parte dei dei compratori una forza una forza abbastanza imponente e quindi che molto probabilmente potrebbe arrivare anche 115 04 ciò si vede anche in h4 vedete dove siamo sempre al di sopra la media 21 stellina dollaro stellina dollaro la situazione abbastanza non non mi dice niente di nuovo anche se mi sembra che c'è una maggiore riflessione da parte dei venditori soprattutto nelle ultime candele giornaliere poi abbiamo poi per quanto riguarda invece passiamo auto sd un'altra maggiore importante perché praticamente oggi dopo le ore 12 con indicazione di una bullish abcd quindi un pattern armonico a 0 73 35 se si è formato su questa zona praticamente sono entrate al mercato adesso stiamo a meno 10 punti dal prezzo di ingresso al mercato però ovviamente aspettiamo appunto il movimento la chiusura della la prossima chiusura della candela a quattro ore una operazione che sta andando molto bene anche se ieri ci ha dato un po di grattacapi c'è un po di resilienza appunto a nelle nella discesa euro card che in questo momento dopo aver raggiunto il primo target di 50 punti oggi ci si trova già sugli 80 punti stasera provvederò quindi molto probabilmente oppure massimo domani mattina a spostare lo stop loss a breakeven mentre poi avviamo invece un'altra operazione outcard che ho inserito stamattina eccola qui outcard buy in questo momento su indicazioni di questa bullish shark al momento c'è un forte pressione da parte dei venditori però vediamo un attimo quello che succede nel corso della notte nei confronti del dollaro australiano nei confronti del dollaro canadese poi abbiamo new zealand yen un'altra operazione che dopo aver raggiunto i primi 50 punti di profitto stando molto bene in questo momento stiamo a 160 punti di profitto vedete quindi vado a spostare in questo momento vado a a spostare ulteriormente a in serata andrò a spostare a 78 80 quindi il lo stop loss di nuovo approfitto quindi praticamente per poter quindi migliorare il timing per poter migliorare il profitto già diciamo già in tasca quindi lo sposteremo a 78 e 80 in modo tale da poter migliorare da poter mettere in tasca altri 50 punti andiamo a vedere invece se lì a new zealand se lì a new zealand praticamente la nostra operazione di long term sta un po avendo un po di difficoltà vedete a superare uno 89 06 oggi c'è stato un forte una forte pressione da parte ribassista e beh vediamo un attimo quello che succede al momento siamo 827 punti un importante molto interessante voglio far vedere anche la situazione del silver in ottica giornaliera dove praticamente potremmo quindi entrare a mercato ovviamente su indicazioni dei pad di un anche da parte delle candele però al momento non abbiamo nessuna indicazione long però abbiamo una bullish cyber infine sterlina yen vi faccio vedere un attimo su sterlina yen c'è anche un altro abbiamo abbiamo una bearish shark bearish shark che no si si pardon è stata è stata praticamente al momento non quindi è stata invalidata su sterlina yen ok perché il prezzo è salito un po più sopra e ci troviamo però ci troviamo in una situazione molto interessante una situazione dove da qua potrebbe partire un nuovo movimento ribassista perché già in passato vedete come ha toccato questa zona precisamente la zona tra 147 70 e 148 40 il prezzo è iniziato alla a un sua una fa sua fase il ribassista bene io al momento ho finito quindi vi ringrazio per l'attenzione ci aggiorniamo direttamente nel post di domani mattina grazie mille buonasera da tutti grazie mille buonasera da tutti